L'UMI BEER L'UMI BEER è un prodotto esclusivo azienda agricola pancera. Il buon seme, i buoni frutti. L'UMI BEER è stato ritrovato dai vigili del fuoco del distaccamento di Cividale a poca distanza dalla zona del cimitero della cittadina friulana ed è stato trasportato dagli operatori sanitari del 118 in ambulanza all'ospedale di Udine dove si trova ricoverato, come detto per fortuna, fuori pericolo di vita. La porta aerei OSS Truman è giunta oggi in rada a Trieste dove resterà per pochi giorni, ufficialmente per una sosta tecnica operativa, dopo un periodo di due mesi di esercitazioni nel basso Adriatico e nello Ionio con l'aviazione militare greca. La porta aerei resterà in rada per motivi di pescaggio perché i moli dove potrebbe attraccare sono occupati da porta container e ripartirà mercoledì. Il corpo forestale regionale attraverso il nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale dall'inizio dell'anno ha intensificato i controlli sulla gestione dei rifiuti, in particolare in friuli e bisaccaria, provenienti dalle attività edili come inerti da demolizioni e terre e rocce provenienti da attività di scavo. La necessità di incrementare gli accertamenti e la vigilanza in questo settore è dovuta principalmente all'aumento degli interventi sul patrimonio edilizio favoriti dall'agevolazione prevista in questo settore che ha portato a una maggiore produzione di rifiuti derivanti da questa attività e le conseguenti necessità di conferirli in impianti autorizzati per lo smaltimento o recupero. Per quanto riguarda invece le terre e rocce da scavo esiste anche la possibilità di riutilizzarle in altre attività edili ma sempre nel rispetto delle relative norme. Un incontro istituzionale finalizzato a mantenere e rafforzare le relazioni diplomatiche del comune di Udine con l'Oriente. Il Far East Film Festival è un evento di valore enorme per i friuli Venezia Giulia e una grande occasione per abbattere le barriere e avvicinare i popoli. Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini che ha incontrato oggi il console generale della Repubblica di Corea Kang Wing Shik accompagnato dal vice console Kim Tae-woo e la funzionaria consolare Kim No-Hiri. L'incontro si è tenuto a Palazzo d'Aronco nel tardo pomeriggio di ieri prima dell'inaugurazione della ventiquattresima edizione del Far East Film Festival. E con questa notizia chiediamo qui questa edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net e le nostre pagine social collegate. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto è il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25 orario ufficio da lunedì al venerdì. Info at mediatriveneto.com Grazie per la visione e la visione.